Sotto coperta il Salona 37 risulta più spazioso di quanto ci si possa immaginare guardandolo dall'esterno. Le altezze sono notevoli ovunque e nessun ambiente risulta sacrificato. L'allestimento che abbiamo avuto in prova con due grandi cabine ed un bagno è quello che in rapporto alle dimensioni della barca risulta più adeguato. La dinette si compone di due comodi divani contrapposti tra i quali si trova un tavolo richiudibile. I due divani sono trasformabili in cuccette a scomparsa. Lungo la murata di sinistra è collocata la cucina Adele, ben attrezzata e con un frigo piuttosto capiente. La comoda cabina armatoriale è posizionata a prua. Dotata di letto a vuo è fornita di due ampi armadi e di un grande gavone sotto il letto. La cabina di poppa ha una grande cuccetta matrimoniale, un armadio e una mensola murata lungo il lato del letto. Il legno impiegato per gli interni è un multistrato marino rivestito in mogano. Il pagliolato, dotato di botole di ispezione, richiama il mobilio nella tinta. È possibile scegliere tra diverse versioni del Salona 37, con due o tre cabine e uno o due bagni.